hanno messo a 50 di però quindi 6 a 3 per Emiliano ma Emiliano ha sprecato una grossa opportunità ragazzi per prendere un bel vantaggio e adesso ha messo una bella boccia Mantini di Cerellino strappiamo il cartellino vediamo un po' dai ragazzi giocate meglio fateci vedere un po' più di spettacolo dai su un tiro non sbagliamo io non ne ho perdono infatti Presidente dicono in chat Presidente ma così però ci gioco pure io dice Ulisse 71 vediamo un po' i ragazzi su ragazzi ormai sono vecchietti tutti sti dolori ragazzi se non rimpalla forse rientra questa si è rientrata quella di Gianluca vedono in chat dicono di uscire rientrare qualcuno è tornato tutto dice Francesco però ora si vede di nuovo anche in Sardegna Francesco ci dicono tutto a posto corta Benedetti Gianluca ha tutto lo spazio non è indovinatissimo no Presidente troppo montata vabbè si è tenuta si è tenuta perché ci aveva una forza adesso Emiliano può fare l'incastro per me non è già Emiliano può fare l'incastro adesso doveva tenere su sotto sulla sinistra doveva giocare aprendosi di più per me e vabbè ha sbagliato anche Emiliano Emiliano addirittura a momenti fa tavola no no l'ha sbagliata completamente pure Emiliano e Gianluca va per due Gianluca non posso aspettare che sbagli Emiliano Gianluca la doveva giocare corta a sinistra sulla sinistra per non creare pericoli da fuori siamo bravi vorrei presi idea no mi piace perché sei in grande tecnico ce capisci è vero è vero 2 a Gianluca 5 a 6 la partita è di nuovo para che dicono questi ragazzi in chat vediamo un po' basta con sta Belen Lelli basta lasciala sta Fabio chiedi a Francesco se si può staccare il collegamento solo a Lellino selezionato o cacciamolo via per favore Francesco cacciamolo via caccialo levalo no non so Ruffiano ragazzi dico le cose come stanno al presidente tutto ditemene la vita a me meno che Ruffiano vabbè se mi dice che sta bello lo penso pure io vai Benedetti tu pezzi vediamo un po' vediamo chi rientra mi pare Gianluca si sono sempre partiti strani ah si sono partiti gente che si è incontrata cento volte nella vita Berzaglio di Emiliano stanno 6 a 5 ragazzi 6 Emiliano e 5 Gianluca Marchi ma quando ci tira sotto mano magari non lo sai vediamo chi rientra adesso è rientrata quella di Emiliano addirittura forse due forse ecco adesso adesso deve tirare sotto mano Emiliano ma non ci tira posso scendere io presidente posso andare a tirare sotto mano vabbè chiami il time out chiamiamo il suo tempo un po' sostituzione adesso 6 a 5 adesso vediamo no non ci tira non ci tira oddio ci tira Emiliano mamma mia oddio ci ha tirato però guarda che casino che ha fatto vediamo un po' ma quella è nata fuori però quella che è rientrata quella arriva a posto ci ha tirato ragazzi sotto mano avete visto in chat però no 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 stava più giù stava più giù ma l'hanno segnata sì no l'hanno segnata ma c'era due tre segni ma non è manco dove hanno messo a testa perché era quello che tu hai detto che forse che forse era da misurare forse poi ha detto uno ma era non sta manco lì ma ora vedrai che Gianluca la mette lunga e ne fa fa uno no a metterla vedi io non ci capisco lo invita a ritirare sotto mano lo invita a tirare di nuovo sotto mano lo invita di nuovo lo sfida che dice ci tirerà o no che dice non ci tira ladino dice che no beh così non lo so fammi vedere dove si mette se si angola un po' ci tira forse ci tira da là vediamo un po' non ci tira non ci tira oddio 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 che è successo dove sta il pallino Dino uno di Emiliano ah il pallino ecco lo sei rialzato chissà se è rimpallato ecco che Emiliano un pizzichetto di fortuna un pizzichetto di fortuna Emiliano come ha fatto a rialzare non abbiamo visto se è rimpallato su qualche boccia e questo è un puntarello importante perché se rimane giù erano due a Gianluca invece è tornato e uno a Emiliano quindi sette a cinque sì sì questo può essere un tiro sono quei tiri capito mezza partita sette a sei sette a cinque per l'altro vale tanto come diciamo noi caro Dino sono i punti che fanno morale perché due a Gianluca uno a Emiliano capito solo che non abbiamo visto se è rimpallato quello non si è visto sette a cinque corta Emiliano corta e bassa è arrivato sulla zona pulita Emiliano si è messo il dito in testa dice che non ci sta più qua la testa ma quello è parecchio tempo meno male che c'è il compagno su di coppia che è un ragazzo normale che c'ha un ragazzo d'oro dice fra che c'ha la testa ma mi pare pure che c'è Luca però mamma mia mamma mia troppi adesso stanno un po' troppi errori abbiamo parlato troppo presto che giocavano bene anche adesso Gianluca se è combinato una situazione niente facile potrebbe non raccogliere manco non solo raccogliere ma adesso ha difficoltà pure a passare la sua deve fare parecchio e infatti questa andrà a versa la sua eccola qua è buona che fa il nullo questa oddio oddio mica levata ancora dici Simo? gioco a zona dico non c'è preside eh sì se adesso Gianluca c'ha ancora un briciolo di lucidità tira la boccia del punto eh perché non so se è allevato è tutto da vedere ancora stanno a sbagliare un po' adesso sì mazza vediamo un po' di chi è è uno di quella è uno è andata a meno peggio di di quanto di come poteva andare pieno faceva nulla eh oddio non lo so c'è una buona scelta questa di Emiliano Fabio sì sì ci va e allora è buona non è arrivata no è arrivata è arrivata è arrivata è arrivata Emiliano ha impostato una boccia a larghi c'è va scende o va in boccia preside che dici decide la boccia Fabio non Emiliano di qua non passa più e infatti avevi detto che con soprapalla poteva pure bocciare 75 poteva bocciare soprattutto in un posto Gianluca ha già giocato a due lati adesso se boccia può rimpalla quella sua lunga adesso non so se boccia perché può rimpalla la sua lunga e infatti va a punto però ci ripensa e tira e tira vabbè non è che rischia più di tanto Fabio a parte dentro in fondo è dentro lui poi deve scaricare poi ha portato adesso sono due insomma Gianluca deve sempre dovere adesso adesso il tiro è semplice il tiro vanno tutte là dentro il tiro è diritto adesso anche perché può toccare pure la sua insomma ho spazio c'è ma d'altronde prima ha sbagliato la forza non è che ha sbagliato dicono in chat ma dice ma che il pallino c'è il virus forse il no fly ragazzi porta le malattie vediamo un po' Gianluca questa la deve indovinare perché se non indovina questa Gianluca se indovina questa è giusto che perde è giusto che perde dicono ma mi pare buono è buono è buono buono quindi 6 a 7 oh si firma si 6 a 7 grazie a tutti e questa è una buona boccia 40 Manuele ha perso contro Vincenzo Marchino lo spareggio Buon Natale Buona pure quella di Emiliano Adesso Gianluca comincia a bocciare anche perché gli possono anche rientrare e boccia le tavole se corpisce Sbaglia Gianluca sbaglia Adesso può pure ritirare la boccia perché Emiliano se lui leva c'è il gioco del pallino Dovrebbe ritirare la boccia secondo me adesso Gianluca perché i fondi non c'ha bocce Che dici Di? Deve ribocciare Deve ribocciare Sì, il gioco 7-6 e deve bocciare Deve ritirare la boccia ancora perché i fondi è messo male Porta una sotto e poi decide con l'ultima Certo, per forza Anche se Sotto non c'è Sotto non c'è Se Gianluca gli fa l'incastro Potrebbe ancora dire a pallino Certo, perché se viene di qua ne può fare tre Ci arriva? Vediamo un po' Non mi pare Vediamo Gianluca che dice Dice te no Gianluca Vediamo un po' Pare di sì Ha preso Emiliano Eppure queste sono delle situazioni in cui Se lo liscia va bene Ma 7 parti, certo Vediamo un po' E non lo liscio Liscio di Emiliano Questa era un'occasione un po' Morto, molto importante Sì Invece 7 pari perché se lo prende Porni addirittura 10-6 per Emiliano E quindi 7 pari Gianluca diceva che non l'aveva levato Invece Ma sicuramente non l'aveva levato E l'arbitro ha voluto favorire Ma l'arbitro mi ha favorito L'arbitro è di casa È vero, è vero C'era da ricontrollarlo sto punto Sì Sì, sì Fra registra che dopo Andiamo a ricontrollare sto punto E 7 pari E vediamo un po' che fanno Sti ragazzuoli Buone, buone 20 Eppure è una bocciatella Non facile Ecco qua Ecco qua E adesso deve tirar pallino Emiliano Adesso deve tirar pallino Ma ancora con sta promessa Ragazzi Sempre se Emiliano Se perde Non è incavolato Che dicono Che Emiliano deve fare Una bocciata Abbiamo promesso Che fanno fa Emiliano L'hanno chiesto La bocciata Lui che fa de volo A due passi A 28 metri Ci hanno chiesto In allenamento Io gli ho promesso Che gli faccio Fa due bocciate A fine gara Dopo la premiazione Voi facciamo su Non lo so Sopra vediamo un po' Ma non è attirato Ma va fino a là Preside Te lo dico Oh mamma mia Non ci va più Non ci va più Ah no Eccola Un po' è tornata Un po' è tornata Preside Ma troppo 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 Non era la boccia Da tirare Eh ma troppo Francie Fa un po' troppi errori Gianluca Eh Preside Guarda Fabio Adesso vi dico una cosa Eh Abbiamo Abbiamo Messo Sta sabbia nuova Per problemi Televisivi Sì Ecco qua Damo la colpa Fra pure di questo Allora Ti voglio dire Abbiamo messo Sta sabbia nuova Per problemi Televisivi Perché sul Insomma Ecco la curva Che dicevamo Sì Eccola Allora C'è il rischio Che forse abbiamo messo Un po' troppa Ti dico la verità Ce ne siamo resi conto ieri Perché è rallentato Notevolmente No 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 Ah era bersaglio Era Ah era bersaglio Comunque È riuscito a toccare il pallino Ma la bocciata E qui ti dici Che bocce E a volte Cioè Passando Specialmente Sulla Sulla scia Della Del lancio Può fare Delle curve Sì Perché normalmente Scendeva molto di più Di quanto Di quanto non sia scesa Quella di Gianluca Infatti fanno parecchia calata I bocce E adesso Gianluca C'ha la bocciata favorevole Perché se carica il pallino C'ha le bocce in fondo Adesso deve colpire Tanto deve colpire Tanto deve colpire Primo Poi si vede Le bocce poi decidono Primo deve colpire Poi si vedrà C'è Bravo Gianluca Adesso ha fatto una bocciata Finalmente ha fatto Una bella bocciata E questo è Gianluca che vogliamo Non so se sono uno o due Vediamo un po' Dicono due qua i ragazzi Quindi nove a sette Ragazzi è entrato anche Clinica 69 Che è Facciolo Fabrizio Leggo Clinica 69 Ve posso assicurare che è Facciolo E ci stava bene in questa finale Clinica è solo lui E ci voleva Clinica Nesta finale Perché la frase È più facile Che un porco salga su un albero È del Clinica Faccio la Fiorentina ha vinto Quindi sei andata la cassa pure te oggi Brutto sozzo Dillo che ti ha dato a Palmino A Fiorentina Dillo Dillo Allora 9 a 7 E Gianluca ha messo al 40 Una bella bocciata Prima che qualcuno lo chieda in chat Lo annuncio io Questa è l'ultima È l'ultima diretta Grazie Vi ringrazio No l'ultima L'ultima Perché poi L'ultima Perché esperienze di questo tipo Sono scioccanti Credo anche per la regia Giusto regia E adesso diventa importante Il pallino no fly Adesso il pallino no fly Diventa fondamentale Sto no fly che fate Adesso diventa fondamentale Questo pallino no fly Se non mi sbaglio È dichiarato punto Se non mi sbaglio È dichiarato punto Allora significa che ancora Ancora ci spera È ancora Questo è un buon segno per Emiliano Vabbè ma lui spera Che qui deve sbagliare Gianluca adesso Sì però Però la partita La può salvare Ho capito Ma Gianluca sta dentro Già di tanto ai tavoli Lui spera solo Qui deve sbagliare Se Gianluca cambia subito Se Gianluca cambia subito C'ha due bocce Per scegliere quello che vuole Gianluca E Gianluca ha levato Ha levato E adesso che fai Emiliano Non ha coperto il pallino Ma devi passare il pallino A buttarlo fuori Devi provare solo il pallino Emiliano Che c'è poco da sperare Ma lui deve tirare il pallino Ci doveva tirare subito Doce prima Che voleva sperare Adesso punta fuori È difficile che si salva Ah o tira piano Emiliano No ormai a sinistra Tutti a sinistra Niente E Gianluca c'ha l'opportunità di vincere Ci dicono in chat Che è stata una bella partita Ciavolino Formigone A undici pari lo spareggio Presidente Io non lo sapevo L'ho saputo L'ho saputo È stata E quel fatto Emiliano addirittura Gli dà la finale a Gianluca È troppo Non ce ne fa tirare Troppo No troppo Questo è troppo Nel senso che Sicuro che ce le metteva E va bene E va bene E via Quindi complimenti a Gianluca E andiamo Andiamo